Le relazioni perché? Da che appunto ho presentato quell'articolo recentissimo che diceva di come le nanoparticelle, e mi riferisco soprattutto a, vabbè, i derivati del petrolio, ok, ma al titanio di ossido, al silicio di ossido, sulla funzionalità placentare, non so chi di voi ha sentito questo articolo, se volete poi ve lo lascio a Giorgio e ve lo giro. E' molto interessante e apre davvero un grosso impegno da parte nostra di scegliere anche tra gli integratori e i farmaci che somministriamo ai nostri pazienti prodotti privi di nanoparticelle. Oggi ho proprio fatto una lunga chiacchierata con un'azienda che mi ha ringraziato, devo dire, perché ad esempio sul titanio di ossido quasi tutte le case di produzione di integratori erano consapevoli. Quindi sul titanio, scusatemi, sul diossido di silicio, no, ed è vero che è meno tossico del titanio di ossido, ma se va incontro alla microparticellizzazione, le nanoparticelle, soprattutto, io vabbè parlo ovviamente di gravidanza e di placenta, possono fare dei danni sulla vascularizzazione e sull'angiogenesi della placenta. Quindi vi butto là che abbiamo davvero una grande responsabilità noi che prescriviamo, perché non prescriviamo solo molecole attive. E quindi ve la butto là. Sono disposta a fare un tavolo di lavoro, se Giorgio ci mette insieme, su come rendere consapevoli chi produce integratori a farlo nell'ottica della nostra, cioè la filosofia che ci unisce qui questa sera, penso che sia quello di prevenire e non di danneggiare. Quindi ho buttato là una proposta, Giorgio, non so se ci hai sentito. Assolutamente sì. Una grande idea. Bene. Marcos? Yes, the internet went down completely, so I'm back up again. I'm sorry. Ok. Perfect. Ok. Thank you. Thank you. Ok, hopefully you can see me correctly. Yes, we can, Marcos. Salve. Dì, alle nove e mezzo se fa un cinque di paio. Yes, I told him already. Yes, thank you. Ok. Ok, fine. So, um... Good. Perfect. Thank you. Ok, so I've understood we're going to do a break at half past, so I could commence with my lecture now. Yeah? Yes. Ok, thank you. So, welcome to everyone, and tonight I'm going to dive deep into technical connections and also a deeper understanding of interpreting the S-Drive report. I will show you some examples to combine the subjects with one another. Vi farò vedere degli esempi che confrontino alcuni esempi, appunto, tra di loro, tra uno e l'altro. Now, the essence and the goal in using the S-Drive and the S-Drive report is to expand the view and to implement other factors that often are overseen. Ok, lo scopo un po' e anche proprio il motivo per cui dobbiamo usare l'S-Drive è quello di espandere la nostra capacità anche intuitiva e di farci domande. Vi farò vedere degli esempi per illustrare esattamente cosa sto dicendo. So, I will show you one example here. Ecco il primo esempio. Dovremmo riuscire a vedere il report. Yes, Marcus, we can. Now, in this report, actually, there's only three main categories in which specific results are being shown. In questo report, in realtà, ci sono solo tre argomenti in cui risulta importante, che risultano prioritari e che vengono mostrati. Most often, there are more categories shown. Molto più frequentemente ci sono più categorie mostrate sul report. If this is the case, then it often shows that the health issues are focused on a few points only instead of a general blockade of the system. Ok, quando avviene, come in questo caso, che ci sono mostrati poche categorie, in realtà dimostra che è proprio importante concentrarti su queste categorie perché non c'è un blocco generale del sistema. So, as a doctor, you ask yourself, ok, if that person does have significant health issues, yet the influences are few, what is the overall picture? Quindi, da medici ci dobbiamo chiedere, se un nostro paziente ha un problema di salute importante e ci sono poche categorie che emergono prioritarie, ci sarà un significato rilevante proprio su queste categorie? Now, this means that apparently the influence on the health situation is also communicated or given through other channels, through other influences. Vuol dire che l'impatto sulla salute viene portato anche attraverso altri canali. In this case, if we look at the system support categories on the right upper side, there seems to be a significant amount of disturbance in the regulative system. Se noi guardiamo in questo caso specifico, alla immagine in alto a destra, che è dove vengono riportati i sistemi fuori bilanciamento, noi vediamo che sono sottolineati proprio i sistemi di regolazione. Spesso ci sono dei blocchi specifici, come ad esempio se ci fossero del mancanza di minerali, come in questo caso. Ad esempio, noi dobbiamo fare i collegamenti se, come in questo caso, c'è una carenza di cromo, ci deve essere, ci dobbiamo immaginare che c'è un deficit nella funzione dell'insulina, del metabolismo degli zuccheri, o meglio ancora, della funzione dell'insulina. Which also shows in the categories above, it says sugar metabolism. Che infatti viene mostrato nei quattro sistemi fuori equilibrio, il secondo è proprio il metabolismo degli zuccheri. With the lack of potassium, obviously there has to be some disbalance in the cell membrane potential, meaning that import processes into the cells are deficient. Quindi se viene segnalato la carenza di potassio, noi dobbiamo sicuramente pensare a qualche deficit nella trasmissione neuromuscolare, no? Anche neurologica proprio. With the lack of zinc, obviously there has to be a significant impairment in immune functions. Con una carenza di zinco c'è quasi sicuramente un impatto sulla funzionalità immunitaria. And with the lack of sulfur, likely there also is a shortcoming in detoxification processes. E con una carenza di zolfo, molto probabilmente c'è anche in questo caso un deficit nella capacità di detossificarsi. Now, whenever sulfur is an issue, this always also refers to the mucous membranes. Quando viene sottolineato la carenza di zolfo, spesso dobbiamo immaginare anche a dei difetti delle mucose. Now, there are two points here which refer to that directly. One would be foods with the intestinal mucous membrane. Qui lo possiamo immaginare anche da due segnalazioni. Il primo è proprio la prima categoria segnalata con foods che lascia immaginare a una debolezza della mucosa intestinale. And the same could be true for the respiratory mucous membrane if post-virus comes from a respiratory virus. E lo stesso possiamo immaginarlo con la terza categoria, immaginando una debolezza delle mucose respiratorie se la segnalazione della bassa resistenza al post-virus fosse un virus respiratorio. I'm showing you this report to show how it also can be because normally you have more categories and a more widespread blockage of the organism. Vi sto mostrando questo report proprio per farvi capire come a volte può essere il ragionamento diverso dal quello che capita quasi sempre con il report che fa mostrare molte più categorie e quindi c'è più ampiezza di veduta come per dire. Invece dobbiamo proprio fare i collegamenti anche se ci sono poche categorie. Now obviously the main influence, functional influences, already have been shown in the table up above here. Quindi anche la seconda pagina con la torta dimostra le stesse categorie che erano mostrate nella prima pagina in alto a destra. Ok, se invece abbiamo questo forte sospetto che ci sia un problema di mucose e sistema immunitario, ci conviene andare in questa pagina che riguarda proprio il sistema immunitario. Now, within the immune system, there's significant, significant demand for action. Nella pagina del sistema immunitario c'è davvero un importante, molto significante richiamo all'azione. And within these categories, with the value of 26, the antioxidants would have the strongest positive influence on rebalancing the immune system. In questo caso, se notiamo il numero 26, che è abbinato ai marcatori degli antiossidanti, prendersi cura di questa categoria avrebbe un forte rebound, un forte impatto sul migliorare il sistema immunitario. E come ho sospettato prima, la carenza di zinco potrebbe essere proprio un principale fattore del blocco del sistema immunitario. E' proprio questo perché noi dobbiamo sempre osservare i numeri maggiori, in questo caso il 26, e dare importanza proprio a ciò che il corpo ci segnala. Ok, se noi osserviamo invece che il sistema intestinale ha bisogno di un supporto medio, quindi non è così sbilanciato come il sistema immunitario, Questo ci porta subito a immaginare come poter agire terapeuticamente in pochi minuti. Quindi questo primo esempio era un po' particolare e unico, proprio perché va in profondità in pochi argomenti. Ora ci dà un altro esempio. Ok, scusate, questo non era ciò che volevo mostrare. Eccoci. Questo è un esempio molto più comune in cui appaiono molte più categorie che hanno un'influenza negativa sulla salute. La prima categoria di rilievo è quella degli antiossidanti, che ci deve far immaginare che questa persona sia altamente ossidata, danneggiata dall'ossidazione. All'interno di una categoria noi possiamo soffermarci sui singoli elementi che vengono segnalati per essere ancora più precisi. Ok, ci sta facendo degli esempi di come si può andare in profondità nella lettura del report. Anche se in realtà non abbiamo necessariamente bisogno di farlo sempre, quindi quello proprio di guardare i dettagli, perché a volte già solo la lettura del report è sufficiente a far cambiare gli stili di vita delle persone, a farli migliorare in salute. Quando io ho cercato di stilare gli elementi da scrivere proprio sul report, mi è stato chiesto perché vuoi mettere la superossidodismutasi? Non è una vitamina, non è un minerale. Perché lo vuoi scrivere su questo report? La risposta per me era molto semplice perché la SOD, la superossidodismutasi, ha due funzioni. La prima è quella di produrre H2O2, quindi l'acqua ossigenata, per difenderci dai parassiti. E nello stesso tempo, I didn't get that very well, but did you mean that the second function of the SOD is to rebound the effect of the antioxidant? If there's too much radicals that it helps in processing that as well. Ok. E la seconda funzione è se ci sono troppi radicali, quindi da una parte produce un radicale ossidante per proteggerci dall'altra, però se ce n'è troppo aiuta a detossificare. Il selenio, che è la seconda voce degli antiossidanti qua segnato, è molto importante perché è il centro proprio, è il nucleo della molecola dell'enzima che rigenera il glutathione, che è il glutathione perossidasi. Per tutti questi importantissimi enzimi e attivatori di reazione, noi abbiamo proprio bisogno dei cofattori, come i polifenoli, ad esempio. No, non lavoriamo bene. E hanno bisogno anche di energia. Now, it is different for each metabolism, whether energy is needed in form of ATP mainly, or whether it's in the, whether it's in the, in the, in other metabolic cycles, like acetyl-CoA, whatever you need. Then some of these ingredients often are needed to push the energy situation. Ok, quindi, l'energia che abbiamo bisogno per queste reazioni può andare sotto forma o di ATP o di acetyl-CoA, in ogni caso noi dobbiamo sempre considerare che tutte queste reazioni hanno bisogno di molta energia. La prima categoria, appunto, erano gli antiossidanti, ma la seconda sono le vitamine. And to read these a little bit different would be to say, ok, we have K2, which is a general helper in the metabolism. Ok, quindi, se vogliamo anche qui andare in profondità, la prima è la K2, che in realtà è un aiuto generale del metabolismo. K2 helps vitamin D, vitamin D helps the thyroid hormone, so all of these are on the same, within the same vicinity of supporting the general metabolism. La vitamina K2 aiuta la vitamina D, la vitamina D aiuta la funzione tiroidea, e quindi collaborano molto nell'attivare il metabolismo. Vitamin B6 is more specific towards ATP production. La vitamina B6 è orientata verso la produzione di ATP. But also nerves. E per ben far funzionare i nervi. Anche la B3 è essenziale per la produzione energetica, quindi tutte queste vanno verso la funzione energetica. La terza categoria è molto interessante e ci dobbiamo chiedere perché c'è la carenza di determinati aminoacidi. Ovviamente potrebbe derivare da una carenza nutrizionale, perché si mangiano cibi non così completi nutrizionalmente. Nella sua esperienza personale, in realtà, questo deriva quasi sempre da una sindrome della iperpermeabilità intestinale. E questo lo dobbiamo sempre immaginare quando viene mostrato il triptofano, e in questo caso è mostrato al primo posto. Questo è davvero un punto cruciale perché il triptofano è un aminoacido essenziale. Ed è essenziale, come sappiamo bene, per la produzione sia della melatonina, per permetterci un buon sonno, che della seratonina, che ci permette invece una giornata felice. E questo, se voi immaginate, le persone con la iperpermeabilità intestinale non vorrei dire proprio che sono depresse, però spesso sono in un mood di non-felicità, di non-gioia. Nello stesso tempo c'è una carenza di metionina. Now, metionine is the universal methyl group donor within the metabolism. Che è il donatore globale, di così, dei metili. And Giorgio was shown the SAME, the S-adenosylmethionine, as one example of supplementation for this. Giorgio prima ci ha fatto vedere che il SAME, che è l'S-adenosylmethionina, è uno di questi donatori di metili. Anyhow, because the likeliness of a leaky gut syndrome being present here, it is important to at least supplement these amino acids until the point that the gut gets better and gets more relaxed and less inflamated. Ok, quindi Marcus suggerisce fortemente di supplementare questi aminoacidi perlomeno fin tanto che la parete intestinale diventa meno permeabile e meno infiammata. One thing that is a big issue in terms of a leaky gut syndrome, of course, is the elevation of histamine. Una cosa che dobbiamo sempre immaginare quando sospettiamo la iperpermeabilità intestinale è l'aumento dell'histamina. And the main metal, the main mineral that we need for the enzymes to process histamine e il minerale essenziale per far funzionare gli enzimi che abbassano l'histamina is copper, is rame. È rame, è il rame. So this also shows in there. E anche questo, in questo report, è dimostrato. Silicon for the function of the kidneys. Il silicio è molto utile per la funzione dei reni. Again, selenium, as I said before, for either the glutathione peroxidase or for detoxification necessary. E di nuovo il selenio, come detto prima, è essenziale per la detossificazione e per aiutare la glutathione per ossidasi. And now one more thing, which is very specific for the energy production system. E l'ultima, ma non per importanza cosa, essenziale per il processo energetico. Which is manganese. È il manganese. Manganese is needed for the production of ATP in the mitochondria. Il manganese è assolutamente essenziale per la produzione di ATP nei mitocondri. Di nuovo, quindi abbiamo degli aspetti che ci portano tutti a pensare ad una situazione, ad una conseguenza, soluzione unica. E in realtà, se leggiamo quei quattro sistemi sbilanciati in alto a destra, tutto ci riporterebbe a queste conclusioni. L'ultimo, quello che parla di sintesi proteica, è conseguente, cioè è logico pensare che se abbiamo una carenza di proteine ci sia un problema nella produzione proteica. La seconda considerazione riguarda la salute cerebrale. Influenzata dall'eccesso di stamina, dal difetto di energia e da molti altri fattori. Nello stesso tempo, c'è da pensare che ci sia un elevato stato di stress, visto che viene mostrato il sistema adrenergico. Ma il fattore che in questo caso influenza maggiormente tutto il sistema di salute sono le emozioni. E noi non lo dobbiamo sottovalutare perché spessissimo le emozioni influenzano la nostra salute in un modo molto rilevante e se non le prendiamo in considerazione otteniamo anche pochi risultati. Se noi consideriamo il punto di maggior influenza delle emozioni sul nostro corpo, dobbiamo ricordarci il sistema immunitario. Non sottovalutate assolutamente questa associazione. E cercate di capire quali sono le storie, le influenze, quali sono gli aspetti emozionali che influenzano il sistema immunitario di quella persona. Ok, quindi molti di voi sono preoccupati di come gestire anche l'elenco di cibi che non dovrebbero essere mangiati per tre mesi. Molte persone sono preoccupate di come questi cibi possano correre. Con tutto quello che abbiamo fino adesso detto. The point is, sometimes there is like a bottleneck in certain enzyme systems and those enzyme systems are crucial for detouring things that are defect. Ok, qualche volta c'è come un coso di bottiglia, come si chiama, una strettoia praticamente, nel sistema immunitario proprio a livello di enzimi. C'è come se fanno un punto di incrocio di strettoia. Non mi viene il paragone in italiano. I had given you one example of the cytochrome P450 system in the liver. Vi ho fatto un esempio già sul citocromo P450 nel fegato. Which is blocked with grapefruit. Che è bloccato dal uva? Grapefruit. No, grapefruit. Grapefruit, yes. Pampelmousse. Oh, aiuto. Pompelmo, pompelmo. Yes, exactly. Exactly. Ok. My Italian is not that far yet. Ok, so... My English. Perfect. Ok. Now, so that means even in some drugs, in some description for pharmacy, it says specifically in there, do not consume grapefruit at the same time. E ci sono, c'è anche proprio scritto in alcuni farmaci, non consumate succo di pompelmo. And there are many examples for this. The nice thing is though, the S drive pre-selects and it just helps you by giving hints. And you don't need to fully understand each single point. And in fact, just follow them. Ci sono molti altri esempi in termini di enzimi, di interrazione con i cibi. Quello che non vi deve spaventare è che non dovete sapere o andare così in profondità con tutto. Se seguite l'S drive, lui vi guida già. Now, you see... You see that you can always use the specific values of the categories to pinpoint your therapy. To focus the therapy. Ok. You can use the values to focus your therapy. Ok. Come prima, dovete cercare di capire i valori, anche quei numerici, per focalizzare e scegliere la terapia. Se trovavamo la categoria degli antiossidanti come prima categoria nella prima pagina, è molto probabile che poi troviamo nella pagina del sistema immunitario il numero più alto nella categoria degli antiossidanti. Now, to read these reports deeper, you might ask yourself, ok, now we have the immune page and the results look a little bit different on this page. Ok, a volte questa pagina ci può sembrare che dica cose diverse rispetto a prima. The point is this page refers to the immune system specifically, meaning those are the factors influencing the immune system and nothing else. Dovete però ricordare che questa pagina si riferisce solo ed unicamente al sistema immunitario, per cui queste cose sono segnate, rispetto alla pagina precedente, solo come quelle che hanno un impatto sul sistema immunitario e non su tutto quanto l'organismo. Whereas before, omega-3 and omega-6 has not shown prominently, now for the immune system, they have a significant direct value. Prima, ad esempio, non avevamo una categoria sui marcatori di acidi grassi, segnalati come prioritari, e invece in questo caso sul sistema immunitario risulterebbero rilevanti. So if you want to specifically influence immune performance, then you would put that into the picture? Quindi se noi vogliamo influenzare e dare un supporto al sistema immunitario, metteremmo anche gli omega-3, gli omega-6 nella figura. Meaning after 14, those acidi grassi is the next strongest influence with 11. Quindi dopo il numero 14 che si riferiva agli antiossidanti, il 11 è proprio il secondo in importanza. So this way you can work very focused if you want to, or you can work generally for the entire system. Allora, in questo modo noi possiamo focalizzarsi molto precisamente, o possiamo invece lavorare un pochettino più generalmente su tutto l'organismo. If you want to work more towards the gut, you can as well, if that's your objective. Se invece ci vogliamo orientare più specificatamente con l'intestino, questa è la pagina che dobbiamo approfondire. If you want to work more towards the cardiovascular system, the same is true. Lo stesso se vogliamo invece lavorare con il sistema cardiocircolatorio. Sta un po' a noi scegliere dove andare. Ma la prima pagina ci mostra davvero l'aspetto generale e le principali influenze per quella persona. Non importa che siamo medici o consulenti della salute. Dobbiamo sempre farci la domanda, qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro goal? In a, as a prophylactic, as a prevention, obviously it's easy because you get significant hints at what you can do to optimize this person. Fine. Se abbiamo un goal di prevenzione, solo prevenzione, di solito è più facile perché abbiamo molti guide, cioè molti segnali di come ottimizzare la salute di una persona. But if you want to work more focused, for example, with a person with allergies or immune dysregulation, then you can also go into this specific field to get as much movement in the picture as possible. Invece il problema è se abbiamo una persona che ha un sintomo, un problema, come ad esempio con delle allergie o un sistema immunitario squilibrato. Allora, lì potremmo voler andare un po' più in profondità e rivolgersi, ad esempio, al sistema squilibrato come quello immunitario. Meaning you focus on this page stronger for this cause. E in questo caso ci concentreremmo un po' di più su questa pagina che non su quella generale. At the same time, if someone else has significant problems in the digestive system and different forms of intestinal complaints, you might as well decide to focus on the gut situation. Se invece abbiamo di fronte una persona che ha varie problematiche intestinali, ci potremmo voler concentrare di più su questa che è la pagina del sistema intestinale. And at that point, you can look specifically, okay, what can I do to advance the gut situation as fast and as clear as possible? E quindi, se ci chiediamo come possiamo aiutare il sistema immunitario di questa persona il più chiaramente e velocemente possibile. Now, remember what I said, the example about tryptofane before? Vi ricordate cosa vi avevo detto del triptofano prima? Now what should tryptofane do for the gut? I mean, that's a question. Che cosa fa il triptofano per l'intestino? Well, it's very easy because you always have feedback mechanisms. È facile perché abbiamo sempre dei meccanismi di feedback. Ogni situazione emozionale di depressione o anche solo di alterazione emozionale avrebbe un impatto sull'intestino. E in realtà qualunque situazione emozionale è anche in grado di cambiare la distribuzione batterica all'interno del nostro intestino. Se una persona è molto infiammata, condizione che spesso segue la iperpermeabilità intestinale. Le stesse citochine che comunicano questi processi infiammatori hanno un impatto anche sull'intestino. Ad esempio il TN-alpha e l'interlochina 1 hanno un'influenza proprio sui batteri intestinali. Loro vanno attraverso la parete intestinale, passano la parete intestinale e arrivano a comunicare direttamente ai batteri. Nello stesso tempo invece, ad esempio, l'interlochina 6 potrebbe avere un impatto importante sul sistema nervoso. Che sembra anche essere il fattore più rilevante nella determinare condizioni come l'autismo e l'iperattività. Nell'interlochina 1. Quindi c'è sempre una connessione stretta tra la regolazione dell'intestino e del cervello. E di nuovo siamo noi che dobbiamo decidere dove determinare il nostro fuoco d'azione. Ok, vi ho mostrato due esempi molto diversi, ma portandovi a ragionare proprio su come ragionare sulle figure, come porre l'attenzione sulle varie categorie. Ok, so for the moment, as requested by Giorgio, I would like to make a short break, but before we do that, already a big thank you Simona for your perfect translation, as always, as as always, getting the message across. Yeah, so. Thank you to you. Thank you Alfred, Simona. Grazie Marcus. Grazie, grazie Marcus. Only five minutes, solo cinque minuti, faccio vedere una piccola cosa che presentiamo insieme, una grande novità perché naturalmente Simona tutto quello che abbiamo visto fino adesso è sicuramente importante e va approfondito e abbiamo pensato di offrire qualcosa di straordinario a tutti. ne abbiamo parlato a Bologna, come lo sapete, noi stiamo lanciando la scuola di alta formazione e voglio ringraziare veramente tutti i docenti, Antonio per questo programma straordinario e le corse che Antonio Coviello insieme alle segreterie tutti hanno fatto insieme ai docenti per mettere appunto questo straordinario evento direi unico siamo alla sesta edizione della scuola di alta formazione quindi questo approccio multidisciplinare vi invito veramente a prenderne parte perché insieme possiamo fare tanto da soli si vada veramente anche noi stessi senza di voi senza vostro supporto aiuto con sfronto, condivisione, non andiamo da nessuna parte. Abbiamo questa scuola, 31 docenti, 128 ore di lezione, 8 weekend ci sarà Simona Nava come docenti, ci saranno questo è il comitato scientifico pensate che ha deciso di far parte del comitato scientifico della formazione oltre le persone che conoscete, Allegrini, Balducci, il professor Fanus, la professoressa Feno, Monica Greco, insomma Mariani, Miceli, Spattini e Marco Stento il nostro grande supporto e quindi inizieremo con lezioni vedete il il primo weekend e adesso vado in fondo poi vi dico la novità perché c'è una novità straordinaria, è anche un dono per voi, anzi ve lo dico subito, non lo posso tenere, il primo weekend, il primo giorno del primo weekend abbiamo deciso di donare una giornata di prova gratuita quindi questo giorno qua sabato 12 ottobre per tutti che vogliono provare la scuola di alta formazione è un dono che facciamo a tutte le persone che sono qua questa sera con noi e poi lì, non so se volete già decidere di iscrivervi o comunque potete farlo, comunque guardate che ci sarà subito Simona Nava con Luigi Montano quindi saranno delle giornate straordinarie di formazione, questo è il programma, poi ci sarà Mariani, Marinelli, Usai, Mauro Miceli, Aloisi, Bevacqua, Salvatore Di Meglio, Deborah Quini, Guido Marini, Monica Greco, Massimo Spattini, Iad, Garritano, Tea Wolfhard, Guardate, Francesco Valducci, Garitano, Di Luzio, abbiamo veramente una possibilità di formare, condividere un approccio multidisciplinare, multifunzionale, dalla cellula alla longevità ma io direi anche dalla cellula all'anima perché questo è il nostro intento, Ivano Ferri, Bartolomeo Grini, Andrea Pensotti, Claudio Pagliara, Tiziana Tosi e questo è per iscriversi basta che chiedete alla segreteria ma non è finita perché questa è la formazione che poi ci deve portare a mettere in pratica e per mettere in pratica a questo è l'offerta che noi facciamo sapete che l'abbiamo lanciato a Bologna per entro posta 1.300 euro più IVA entro il 30 settembre 950 euro più IVA pensate 8 weekend di formazione per i centri S-Drive 650 euro più, poi si può scegliere anche di partecipare a un weekend alla volta, non c'è problema, però pensate una formazione, noi interessa condividere, formare, preparare e fare in modo che sempre più persone entrino in questo mondo che è l'epigenetica e la tecnologia S-Drive per chi vuole, ma non è rivolto solo a chi ha l'S-Drive, però chi ha l'S-Drive ha sicuramente una possibilità importante di entrare a un costo veramente neanche 100 euro a weekend, quindi pensate cosa stiamo offrendo. A fianco alla scuola di alta formazione, quindi la partecipazione alla prima giornata della scuola è gratuito, basta che vi scrivo. Abbiamo ideato, grazie Antonio e grazie a tutti i relatori, un master di specializzazione S-Drive Academy. Quindi tutto quello che noi impariamo nella scuola lo metteremo in pratica nell'Accademia. E la tecnologia, proprio sulla tecnologia epigenetica, l'applicazione clinica dell'S-Drive, le date sono queste. I costi sono veramente tantissimi, quindi non è facile, dobbiamo assolutamente contenerli, perché le spese sono enormi per fare questa formazione. Ecco qui, vedete, 15, 16 a 7 novembre, si partirà da venerdì pomeriggio fino a domenica pomeriggio. E la prima data e sede è quella di me. e poi a giugno 2025 il quarto weekend sarà una vacanza studio, oltre al weekend di formazione. Chi vorrà potrà aggiungere anche dei giorni per stare insieme in vacanza, anche con le famiglie, non c'è problema. Detto questo, questi sono i docenti, Bartolomeo Allegrini, Monica Greco, Guido Marini, Giuseppe Napoli, Massimo Spattini, Marco Stento e Katia Wulfa. La quota di iscrizione dell'Accademia è 1.000 euro più IVA. Per la promozione di Centri S-Drive, 850 euro più IVA, abbiamo deciso di proporre questa quota di partecipazione entro il 30 settembre di 750 euro più IVA. 4 weekend, 31 docenti, 128 ore di lezione, 8 weekend per la scuola di alta formazione, 48 ore di lezione, 8 docenti, 4 weekend per l'Accademia, e vi faccio questa proposta. tutto, pensate, che ha un valore di 2.300 euro più IVA. Chi è Centri S-Drive può entrare nella scuola di alta formazione e in Alcademia a 1.400 euro più IVA. Poi, insomma, fate le vostre valutazioni, iscriveteci, chiedete informazioni, non c'è problema. A noi ci piacerebbe che potessero partecipare, insomma, più persone possibili, più professionisti possibili. Ecco, questo era quanto volevo comunicarvi. a noi, Marcus. Thank you. Grazie per avermi dato la parola. Simona, ci sei? Sì. Presente. Absolutely. Ti è piaciuta l'idea? Molto. Stavo già guardando a novembre. Mannaggia. Le dà. Dai. Ok. Well, thank you for the short intermission. Thank you. But this is all very important to put the courses together and to just accumulate the knowledge. Eh sì. Questi sono proprio corsi che ci servono per accumulare conoscenza. Ok, so, if you permit, I would continue on with another example. Se mi permettetevi farei vedere un altro esempio. Now, this is another example of an S-Drive report. Questo è un altro esempio di report di S-Drive. Any of these reports are highly individual, meaning they show an extremely different picture. Some people and some pictures are more frequent, but it's always an individual picture for this person. Ogni, ogni report è molto individuale, anche se vi può sembrare, man mano che ne fate che qualcuno, qualche report sia più, capiti più frequentemente, ricordatevi che dimostra sempre l'immagine, la figura individuale di una persona. Now, why am I showing this report is because this one starts with interference. Il motivo per cui vi mostro questo report è perché parte, la prima categoria sono le interferenze. Interference refers to the susceptibility towards low frequencies and electromagnetic fields. Some people have this by nature. Qualcuno ce l'ha per natura. Qualcuno, appunto, ce l'ha per natura, ma di solito, quando si dimostra suscettibilità nei confronti delle interferenze delle frequenze, è perché c'è uno sbilanciamento funzionale mitocondriale. Now, whatever, why ever the mitochondrial function is impaired, there can be many causes leading to her. Il motivo per cui la funzione dei mitocondrii può essere alterata, ce ne sono moltissime di cause. I had shown you examples before, a lack of magnesium or molibden, for example. Già prima vi avevo dimostrato una carenza di magnesio o di molibdeno. If there are too high levels of calcium or too extreme low levels of calcium. se il calcio è sia estremamente alto che estremamente basso. Low levels of calcium are very rare in society because of their drinking water, but high levels of calcium are more frequent. Bassi livelli di calcio nella nostra società sono rarissimi, anche perché vediamo spesso acque calciche, ma alti livelli di calcio sono molto frequenti. This has to do with the balance of calcium over the inner membrane of the mitochondria. Ed è sempre il bilanciamento del calcio che è da tenere presente sul bilanciamento della membrana interna dei mitocondrii. Ci sono altri meccanismi possibili. Uno potrebbe essere un molto elevato stress ossidativo nitrosativo. Che lascia ad alti livelli di radicali che lascia ad alti livelli di radicali nitro 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 Ossido nitro O O O O And this shuts down many mechanisms in the body Che spegne molti meccanismi nel corpo For example, the regulation of the blood pressure in the blood vessels Come la regolazione della pressione arteriosa But also the mitochondrial energy production But also the mitochondrial energy production Ma anche la produzione energetica mitochondriale By the way, peroxy nitrate is one of the main factors leading towards Hashimoto Ad esempio Ad esempio I nitrati per ossidi sono una delle prime cause per andare verso la sindrome di Hashimoto Now These are This is another example for a shutdown of the mitochondrial function Questo è un altro esempio dello spegnimento del funzionamento della funzione mitocondriale C'è un altro enzimo che è la piruvato di idrogenasi Which is a five folded enzyme system at the entry to the mitochondria Che è praticamente una porta di cinque enzimi Che permettono l'ingresso ai mitochondri Ok, I'm just showing you different examples The point is The more reduced the mitochondrial function is The more susceptible they become towards electromagnetic fields Quindi l'esempio è che Più il mitocondrio diventa debole Più diventa sensibile al campo elettromagnetico And you can say that On a macro level Just like on a micro level Lo puoi dire? No, I didn't get that sentence Ok, you can say that You can make a comparison on a macro level Like on a micro level Ok, e lo possiamo vedere sia a livello macro che micro If you're strong, full of energy and determined to do something You march on through Se sei pieno di energia e hai un focus Vai dritto secondo la tua marcia If you're low in energy, low in motivation and just sort of bounce back and forth Many things can influence you and you get set off your path Se sei carente di energia Molte cose ti possono influenzare e deviare dalla tua, dalla tua mira Proprio perché i mitocondrii sono dipendenti dai campi elettromagnetici per produrre ATP They become highly susceptible to these fields Diventano molto suscettibili da questi campi And now you understand why the incident of chronic fatigue is rising so much in modern society E ora capite perché L'incidenza della fatica cronica Quindi le fibromialgie anche così stanno diventando così numerose nella società moderna Ok, so whenever you see interference think two ways Quindi sempre quando vedete il campo interferenze, la categoria interferenze segnata dobbiamo pensare a due cose Reduce the intensity and direct impact of electromagnetic devices onto that person Ridurre i campi elettromagnetici e quindi spegnere tutti i device, tutti i produttori di campi elettromagnetici nella vita di quella persona Which means, for example, taking out electrical appliances, power cords, transformers out of the bedroom Che vuol dire togliere tutti i caricatori di batterie, tutti i vari anche fili eccetera eccetera dalla camera da letto Is this person susceptible by, for example, carrying bluetooth, headphones all the time in the ear or on the watch? Dobbiamo chiederci se questa persona può essere suscettibile ai campi elettromagnetici perché magari indossa gli auricolari tutto il tempo nell'orecchio O magari indossa l'orologio collegato col bluetooth It is no coincidence that I do this by line Non è una coincidenza che io uso sempre il filo, non il bluetooth E sì, questo è un orologio digitale ma io ho disattivato bluetooth e wifi e GPS If that person is susceptible Se quella persona è suscettibile Now, the second category for this person is the acidi grassi Ora, la seconda categoria per questa persona sono gli acidi grassi Here, specially, two out of the omega-6 fraction Qui, nella specifico, sono segnalate due valori della categoria omega-6 Now, typically, you would normally say Oh god, you know, omega-6, no go, no go Because they're pro-inflammatory, don't give them Quindi tipicamente noi ci comporteremmo dicendo Oh mamma mia, gli omega-6 sono infiammatori, non glieli possiamo dare But that's not true Ma questo non è vero Because this is only true for the arachidonic acid, which is part of the omega-6 fraction It's not true for the gamma-linulin, GLA, or the linoleic acid So this, they have to differentiate Quello che pensavamo prima, che gli omega-6 sono infiammatori, è vero solo per l'acido arachidonico Ma non per tutti gli omega-6 Ad esempio, non è vero per l'acido linoleico e il gamma-linolenico Quindi dobbiamo differenziare tra gli omega-6 Try not to live by dogma Cerchiamo di non vivere secondo dei dogmi Yes, inflammatory situation can be a dramatic issue for many people, that's true Vero che l'infiammazione può essere un argomento molto drammatico per molte persone But for some people, it is necessary to inflame more in order to be more defending Ma ricordatevi che l'infiammazione per alcune persone è importante per potersi difendere Now, the next category shown for this person is a lack of certain minerals La terza categoria per questa persona è che dimostra una certa carenza di minerali And again, we have a cross combination of the lack of chromium And above, in the categories, sugar metabolism disturbance Di nuovo, come del primo caso, vedete la combinazione tra carenza di cromo E, se guardiamo le categorie in alto a destra, c'è segnato metabolismo degli zuccheri I have been showing this combination in many different seminars Just to raise the sensibility for this factor Sto mostrando questa associazione in tantissimi seminari, in tantissimi convegni Ma perché voglio proprio alzare la sensibilità vostra che questa associazione è vera Carenza di cromo, alterazione del metabolismo degli zuccheri Non c'è produzione di insulina senza cromo Non c'è rilascio di insulina senza cromo Non c'è rilascio di insulina senza cromo Questo è il motivo per cui, pur essendo elementi traccia Cioè, sono elementi molto poco rappresentati sulla superficie della terra Ma sono essenziali per la nostra salute Now, again, rame, copper is shown here Di nuovo è mostrato il rame E fra un po' lo vediamo più profondamente perché non ha un ruolo solo nel ridurre l'histamina Ma per un rispetto di altri fattori Qualcuno potrebbe essere sorpreso dal vedere che ci ha segnato il sodio Che in questo caso vuol dire carenza di sodio In molti di noi penserebbero che dovrebbe essere segnato di più la carenza di potassio che quella di sodio Perché poi il sale noi lo usiamo molto Quello che è buffo sottolineare è che il sodio è stato segnalato come non salutare da decenni In realtà è interessante notare che molte persone che sono molto sane consumano grandi quantità di sodio Nelle funzioni del sodio c'è una funzione che è spesso sovrastimata Calore, temperatura Calore, temperatura People that demand salt, that demand sodium, often are cold and it helps the body to re-regulate Le persone che spesso tendono a richiedere sodio è perché hanno freddo, sono fredde e il sodio aiuta a scaldarsi In questa persona abbiamo segnalato anche la categoria delle sfide ambientali nella fattispecie a elevati metalli tossici What do toxic metals have a significant influence on? Su che cosa hanno? Su che cosa hanno un'influenza metalli tossici? Any membrane and membrane potential? Tutte le membrane e i loro potenziali Number one, interferenze the mitochondria Number three, sodium for the cell membrane potential Number three, sodium for the cell membrane It has an effect jumping up on the system categories on the microbioma It has a significant influence on the blood-brain barrier E ha un significato molto rilevante sulle membrane cerebrali Leading towards central nervous stress Che porta a uno stress del sistema nervoso centrale So you now see that actually many of these categories here are interconnected They don't stand alone by themselves They actually correlate to each other Quindi notate che, anche se ce ne sono segnate tante di queste categorie Sono tutte interconnesse Non stanno lì da sole per caso Sono correlate Now, just to pick out something here Why should the person now start reducing their consummation of coffee? As it says here, caffè Oh, facciamo quindi adesso questo punto Chiediamoci perché questa persona dovrebbe togliere o ridurre il consumo del caffè Come è dimostrato qua tra i cibi che deve togliere Because, for example, the liver is already overloaded in its metabolic functions Perché il fegato in questo caso è già sovraccaricato nelle sue funzioni metaboliche Where are heavy metals detoxified or conjugated to be excreted out the body is the liver? Proprio perché colui che coniuga e secerne descreta il metalli tossici è il fegato That's a beautiful cat, by the way, which walked through the picture here Ha sottolineato la bellezza del gatto che è passata davanti alla telecamera And secondly The liver produces buffer alkaline values to balance over acidity In più il fegato produce come tampone, un sistema tampone degli alcali per bilanciare l'acidità, l'acidosi It produces as much bicarbonate per hour as the kidneys per day Produce tanto bicarbonato per ora quanto i reni fanno in un giorno And also the caffeine in the coffee augments the in-stream of elements into the cell Inoltre, la caffeina del caffè aumenta l'ingresso dentro nelle cellule By stimulating the cyclo-AMP system Stimulando l'AMP, il ciclico, l'AMP ciclica Il sistema dell'AMP ciclica And at that point, of course there is more ATP being produced with that influx But at the same time, toxins can also influx at the same time Quindi, questo fatto, la caffeina aumenta l'ingresso e la produzione di ATP Quindi questo è buono, ma nello stesso tempo aumenta anche l'ingresso, l'influsso, diciamo così, di tossine E quindi è una buona idea ridurre l'introduzione di questo cibo per i prossimi tre mesi Quindi, come abbiamo detto, tutti questi sono degli effetti molto importanti per tutto il sistema And looking at the influences onto the gut Ma guardando l'influenza sull'intestino Even though it's low, even though it's not in the main focus We can see one thing that's interesting Anche se in realtà ha bisogno di un basso supporto questo sistema intestinale Potete vedere una roba interessante Basically, there are two main influences solely on the gut Ci sono solo due situazioni che hanno un'influenza sull'intestino Number one is electrosensibility Sensibilità elettrica And the second one are the toxic metals E i metalli tossici Due So, just by these influences alone, we can greatly influence the health of this person Quindi, già solo cercando di ridurre queste due Possiamo avere davvero una grande impatto di salute su questa persona And to look at different factors leading towards To looking at different factors here leading towards the health situation Okay We can now differentiate maybe for this person in its individual situation Quindi, noi possiamo differenziare pur nell'individualità di questa situazione Number one here for this person in the influence is radiofrequency Allora, al numero uno tra le interferenze per questa persona c'è la radiofrequenza Is there a transmission tower near where the person works or lives? Quindi, possiamo anche chiedersi se c'è una colonna di trasmissione radiofonica dove lavora o dove vive? Is there any form of radio antenna communication taken place? Is there any form of radio antenna communication taken place? At the same time, the electrosmog is also a big issue for the person Anche se, nello stesso tempo, tutto l'elettrosmog è molto rilevante per questa persona There's the cat again You can look and maybe actually even ask what in German we could call bioarchitects Meaning people that go around buildings and measure electromagnetic fields and influences In Germania, abbastanza frequente chiamare, penso che possiamo chiamarle anche noi Sono delle persone che vengono a casa e misurano le frequenze e le fonti di emissioni di campi elettromagnetici Or do you buy yourself a multi-frequency reader to also see are there significant parts in your living vicinity Or your work vicinity which are highly infected Si può anche comprare in realtà sono praticamente dei misuratori portatili Ok, che ti permettono di verificare se dove vivi o dove lavori ci sono dei punti di concentrazione di campi elettromagnetici Sono multifrequenti This person is also affected by alternating fields Questa persona è anche influenzata da campi elettromagnetico alternato Ok Correct, so are there chargers near that person a lot? Yeah, that charge from alternating current to direct current for example AC to DC to make it music wise Ok, spesso sono i connettori e i cavi di ricarica And also the body detects an effect of microwaves onto the person E anche le microonde influenzano negativamente questa persona And so that person should check, is it using microwave in the kitchen? Sta usando per caso il microonde nella cucina? Is it consuming food in a restaurant that often use microwave? Anche il consumare cibi ai ristoranti che usino spesso microonde? Or is the 5G function in the cell phone maybe activated? O è per caso attivata la funzione 5G sul cellulare? Just check Sono tutte cose che ci fanno pensare e possiamo chiedere alla persona di controllare Una cosa da controllare è semplice perché era specificatamente indicato Ci sono due fattori che hanno un'importanza sulla funzione dello stress cerebrale Che è l'ipofisi Che è l'ipofisi Con questi due fattori, tirosina e vitamina B5 Noi possiamo davvero aiutare a risolvere lo stress cerebrale E in questa donna This is so little known that it's hard to get B5 singular È poco conosciuto questa associazione E praticamente nessuno si accorge di una carenza di B5 And almost impossible to get for injection Ed è praticamente impossibile ottenerla per iniezione Ok, so again we have so many stories We have so many stories as much as we have people in cases Abbiamo così tante storie Tante quante sono le persone che incontriamo e le loro immagini Today I have shown you a few Today I have shown you a few in order to connect the different fields And to get a deeper understanding Of how you can also read a report far from just individual factors Oh, oggi vi ne ho fatti vedere pochi, alcuni Ma proprio con l'intento di dimostrare quanto in profondità si può andare Anche nei singoli fattori Ora vi vorrei appunto far capire bene l'importanza di una categoria che spesso non viene compresa And that is the system support Ed è la pagina dei sistemi di supporto I would like to go through the different categories in order to tell you how I understand the meaning of the single categories Vorrei passare ogni categoria per dirvi come io penso che vada interpretata quella singola categoria Let me start with something that seems trivial and that's sleep Lasciatemi partire da qualcosa che sembra strano ed è il sonno Now, definitely the S drive is pretty much the only device in the world which will actually tell you to sleep more L'S drive è in realtà un unicum tra i vari sistemi di rilevazione che potrebbe dirci dormi di più But, again, don't think in dogma, meaning someone who only sleeps for hours a day doesn't necessarily have sleep lighting up here It is only if that person needs more sleep Ok, di nuovo liberiamoci dei dogmi e non è necessariamente acceso la fetta del sonno Semplicemente perché una persona non dorme abbastanza Si segna perché una persona può necessitare più sonno anche se dorme un numero sufficiente secondo il dogma di ore The point is, sleep is not shown here to make you look more beautiful There is a functional reason why it's shown Il sonno non viene dimostrato perché dobbiamo apparire più belli Ma c'è un significato funzionale perché viene segnalato il sonno Sleep is the time of the main detoxification processes Il periodo del sonno è il momento in cui mettiamo in atto le più alte funzioni di detoxificazione Sleep is the main time for emotional processing È il momento principale per i processi emozionali Sleep is the time to recharge some reserves for the day È il momento in cui dobbiamo ricaricare le riserve per il giorno successivo There is a biorhythm to the day Where we have a maximum release of super renal hormones Around 8 or 9 o'clock in the morning C'è un ritmo circa di amno Nel quale ad esempio abbiamo un input Un'immissione degli ormoni surrenalici Circa tra le 8 e le 9 del mattino So all of these rhythms have to somehow work Questi ritmi devono lavorare in qualche modo Often you will see sleep showing up for people that need to process emotionally more Spesso vedremo segnalato il sonno Per persone che hanno semplicemente bisogno di riorganizzare le emozioni Now the next one is the detoxification system Il prossimo, la prossima fetta è sistema di detoxificazione Now this is not just trivial Because obviously detoxification is present on many different levels La parola di detoxificazione può essere presente in molti livelli, in più livelli You have phase one, phase two Intracellular, extracellular A due facce Una e due Intracellulare ed extracellulare You have super structures like the liver, like the kidney And many other different places where detoxification plays a role Abbiamo anche vari settori dove può avvenire la detoxificazione Come il fegato, i reni I have shown the examples before By, for example, using sulfur Or using other elements to augment detoxification Ho già dimostrato prima, no? Come ad esempio ci sono degli elementi che aumentino la capacità di detoxificarsi Uno di questi è lo zolfo One super easy example would be acetylcisteina A-C-C Acetylcisteina Ok, uno degli altri esempi potrebbe essere acetylcisteina Which normally is being used as a cough As a solvent for cough Che spesso viene usato come mucolitico per la tosse Acetylcisteina But actually, I tend to prescribe that in order for a totally different effect Ma io tendo di prescriverla per totalmente diverso funzione rispetto alla tosse La cisteina è necessaria per costruire il glutathione Quindi aumentiamo il livello intracellulare di glutathione E nello stesso tempo aumentiamo l'energia Il livello di energia Sembra tutto strano ma in realtà se mettiamo insieme tutti questi pezzi di puzzle Abbiamo un tremendo, in senso positivo, effetto benefico per la persona So the next indicator here is the cardiovascular system L'altro indicatore è il sistema cardiovascolare Qual è il principale fattore in termini di cardiovascolare? Qual è il principale fattore in termini di cardiovascolare? The books will tell you cholesterol I libri direbbero il colesterolo That's nonsense Questo è un non-sense If you want to pinpoint one factor You could say inflammation, yes Se vuoi davvero sottolineare un punto importante Dovresti dire infiammazione If you ask me, the answer would be even different Se chiediamo a lui, la risposta sarebbe addirittura diversa Leaky gut leads to leaky vessel La iperpermeabilità intestinale Si dirige verso una iperpermeabilità vascolare Simple as that Semplice System muscular skeletal system is the next point Il sistema muscolo scheletrico è il prossimo Questo si accende spesso quando c'è una carenza di energia Specialmente di ATP The weight we weigh in kilograms of our body We produce in ATP per day Someone weighing 70 kilos Produces 70 kilos of ATP every day Ok, il nostro peso corporeo è esattamente la quantità di ATP che produciamo al giorno Of course it's recycled ATP, ADP, ATP, ADP, back and forth But this is how important ATP is for our function Quindi in realtà poi è ovviamente anche un riciclo di ATP e di ADP, ATP, ADP Però è davvero importante After action, muscles can only relax into their normal form again by using ATP Ok, quindi quando si formano i muscoli e possono funzionare solo usando ATP Any lack of ATP results in the rest tension of the muscle Meaning it does not relax in its fully elongated state Una carenza di ATP porta sempre a una mancata di rilassamento del muscolo che non riesce ad allungarsi completamente This shortening pulls on the ligaments Questo accorciamento del muscolo che non si riesce a rilasciare tira sui legamenti And the ligaments pull on the bones E i legamenti tirano sulle ossa And in between the bone and the ligament Is the bone skin E praticamente il punto di connessione tra il legamento e l'osso è il periosto Lui l'ha chiamata the bone skin, la pelle dell'osso This is the thing that hurts Che è ciò che fa male Speaking, Simona, you were mentioning fibromyalgia Parlando, io prima vi ho accennato quando lui parlava della fatica generalizzata Ho accennato anche la fibromyalgia Questo è uno dei casi I dolori diffusi sono soprattutto sul periosto Periostio Ok, so, continuing on I would like to go down And continue on with emotions, emozioni Ok, giriamo, andiamo verso le emozioni Quindi facciamo tutto il giro I already said before that emotions have a direct connection to the immune function Abbiamo già detto che le emozioni hanno una connessione oscura con il sistema immunitario E hanno anche una connessione oscura con molte funzioni di altri organi Ma la cosa più importante è capire che le emozioni Possono portare verso la salute o la malattia Più in là nel tempo Cioè ci sta dando il fatto che Le emozioni che proviamo adesso Avranno un impatto sulla nostro stato di salute in futuro Anche se questo ci sembra strano Sappiate che se una persona non si riesce a immaginare in uno stato di salute Quindi l'immaginazione avrà problemi di salute Quindi a volte noi dobbiamo essere bravi a comunicare un'immagine Che crei un ponte per queste persone Ad esempio possiamo dire questa frase Ok abbiamo visto questo, questo e questo fattore Ma questo può essere curato, trattato E in tre, quattro, cinque, magari sei mesi Tu starai meglio Quindi loro hanno bisogno questa immagine data da noi Perché loro non sono in grado di immaginarsi da soli Non è placebo Non ha nessun effetto placebo Noi non stiamo facendo placebo Ma stiamo riequilibrando le emozioni Dando loro uno scopo Perché questa persona è disabile nel regolarsi le emozioni So next category is the cellular hydration Meaning how much you drink Idratazione cellulare Quanto beviamo? Ok Questo è totalmente sottostimato Questo è totalmente sottostimato Just by drinking excessive amounts of water Gastrite Molte infiammazioni gastriche Perché ma anche altre condizioni possono essere curate Curate Attraverso l'idratazione eccessiva Detoxification is hard to reach If there is not enough water To dilute the toxins Non riusciamo a ottenere un buon livello di detoxificazione Se non abbiamo grandi quantità di acque Che diluiscano le tossine The kidney is the only organ in the body That actually loves to have more to do than less I reni sono in realtà l'unico organo nel nostro corpo Che adora fare più lavoro rispetto a non fare lavoro You produce about 800 liters of primary urine every hour Which then is condensed down later on But this process is greatly helped the more you drink Noi produciamo grandissime quantità di urina primaria Più di 800 litri all'ora E poi dopo questo viene concentrato ovviamente Ma questo viene proprio aiutato da quanto più beviamo In realtà se non beviamo abbastanza Per secernere con le urine alcune sostanze Dobbiamo agganciare queste sostanze Che quindi poi vengono escreti insieme alle sostanze tossiche E quindi perdiamo minerali It is a known fact that the older people get The less thirsty they are Questo è un dato di fatto che più una persona diventa anziana Meno percepisce il senso della sete E questo dipende dalla funzione cerebrale Non sto parlando di ormone antidiuretico E o l'influenza della birra su questo ormone In realtà mi sto riferendo al centro E all'interno del nostro cervello Che è un sistema di captazione dell'acqua Che apparentemente sembra degenerare nel corso degli anni E quindi bisogna ricordare alle persone Che dovrebbero bere al più possibile Quanto possono bere e devono bere Anche se non hanno sete Perché? Amongst other things Because the viscosity of the blood Meaning the flow smoothness of the blood Is maintained through a proper hydration Tra i vari motivi per cui dobbiamo bere tanto C'è anche il fatto che la viscosità del sangue Diminuisce bevendo tanto E quindi rende il sangue meglio circolabile Come influenzereste la viscosità del sangue? What is the place that apart from red and white blood cells and the platelets What is composing the blood? What produces the blood? Ok A parte le componenti cellulari Quindi globuli bianchi Globuli rossi e piastrine Cosa produce il sangue? The liver Il fegato Everything else So Take care of the liver Quindi curate il fegato Drink sufficiently Bevete sufficientemente You can use omega 3 To make a smoothness in the blood Usate pure gli omega 3 per rendere la viscosità più bassa And if you observe a situation Where the person Apparently Is not Well profused In certain areas I didn't get that I'm sorry If you observe that a person Is not well profused In certain areas of the body Ok ok E se osserviamo che la persona non è perfusa in determinate aree Per cui se notiamo ad esempio le mani fredde o bianche Possiamo usare un cucchiaino da tè di aceto di mela One tablespoon In a glass of water And that also helps to Positively influence the viscosity of the blood So to drink Yes Ok Bevete un cucchiaio di Di aceto di mele In un bicchiere d'acqua Questo aiuta la viscosità del sangue Ok These again Those are just examples But Sono solo esempi If If you see certain categories Lighting up Then those are signs of the body Saying This would really help me This would improve my situation Però queste sono quelle cose Che poi alle persone Gli fanno proprio dire Io ho migliorato la mia situazione Ok So For now I would like to stop Because we've gone through many different categories And at a certain point Some of the information will just be lost But hopefully I was able to show you a deeper interpretation And the connection in between different fields So you can read your reports at a different level If you choose to do so Ok Ribadisce intanto vi ringrazia Lui adesso Non finisce le categorie Perché Teme che sennò poi troppe informazioni Vengano perse E ribadisce il concetto Che ha voluto spiegarvi Quanto si può andare in profondità Nella lettura del report Anche se non sempre è necessario Andare così in profondità Quindi a volte il report Anche letto un po' più semplicemente Comunque porta beneficio Grazie Marcus Grazie davvero Marcus Mamma mia Thank you very much Penso Simona Che Una delle più belle formazioni Che abbia mai fatto Marcus No? Questa sera Nella formazione Così preciso Puntuale Marcos Very useful Ok Well And Thank you Simona For bearing with me here I don't always make it easy But You've really You've really went for it here Thank you very much Una domanda Adesso Penso che ci sia anche Bartolomeo Che voleva fare un saluto Volevo dire Qualcuno chiedeva Come mai A volte Troviamo Il sangue In un modo Dei dati Invece LSDrive Dice carente E nel sangue Non si riscontra Ok Marcus A question Giorgio read The question That is Asking Why S-dry Maybe Shows A Lack In Some Mineral Or Vigiamins And then In the blood If you do The exam Of the blood That level Is not Low But high Very easy Some people Need excessive Amounts Of certain Elements Much more Than others Because of An individual Situation Molto facile La risposta Questo me lo ricordo Ce l'aveva già detto Marcus Perché a volte Delle persone Hanno bisogno Di più Necessità Di un Determinato Elemento Più Delle altre Persone Per una Sua Condizione Particolare Magari Anche Temporanea Ricordatevi Che quelli Che sono I valori Di laboratorio Poi sono Sempre Dei range Di una Popolazione Enorme Non sono Il range Di quella Persona Lì Un esempio Sempre lo fa Massimo Spattini Su quanto Spesso Abbiamo Lui Fa l'esempio Di una donna Che era Neuropatica Aveva la B12 Altissima Nel sangue Fa l'S drive Trova carente Di vitamina B E allora dice Chi ha ragione S drive O Il sangue Effettivamente Poi aveva capito Che c'era un problema Sia di quantità Sia di Ricezione Proprio Biodisponibilità E assimilazione A livello Delle membrane cellulare Quindi Tiveazione mitocondriale Quindi In questo contesto S drive Ci fa ragionare Su perché Non arriva Le cellule Perché le cellule Hanno bisogno Di più Di vitamine Di minerali Eccetera Eccetera I can give you One example For treatment In nitrosative Stress I would use Doses Which are About 30 To 50 Times Higher Of vitamin B12 And folic acid Than normal Lui ci sta facendo Un esempio Su un Rischio Di Danno Nitrosidativo Lui userebbe Quantità Di acido folico E di B12 30 Ma anche 50 volte Più alto Del normale Certo Ma Anche perché Se non hai Una formulazione Spray Sublinguale Per esempio Oppure Se non Dai in vena Certe cose Come sapete Non è che funzionano Al top Basta pensare Quanto sia fondamentale La terapia infusionale E quanto S-Drive In questo contesto Potrebbe essere utile E Ugo Ugo Has a Question Here Ugo No No Io chiesto Mi sa che No Ugo è Mi ha chiesto Me No È un collaboratore Bartolo Ci sei Bartolo Buonasera Bartolo Ciao Ho ascoltato Buona parte Della serata Abbastanza tardi Comunque Che dire Voglio dire Ho visto la tua offerta Della scuola Di alta formazione Più il Più anche il master Che faremo Quindi Più generosi di così Poi la lezione di Marcus Di stasera È stata Ampia E con Ampie prospettive Anche di Ampiamento No Di Nozioni Aperto altre vie Quindi Secondo me Abbiamo un viaggio Insieme da fare Che è meraviglioso Io stamattina Ho iniziato a lavorare alle 8 E ho iniziato con una paziente Che è venuta da me Perché a luglio Ha scoperto una massa Di 10 cm Di un K Pancreatico Io mi occupo Di oncologia integrata Dal 2005 Praticamente Ha saputo Di questo test Abbiamo fatto questo test E il test Al primo posto Ha messo Metabolismo Degli zuccheri Al secondo posto Ha messo Sonno Al terzo posto Ha messo Equilibrio Microbico Intestinale E chiaramente È venuta fuori La storia Di una persona Ansiosa Che da 20 anni Non dormiva bene Che non aveva Nessuna malattia Secondo lei Perché non dormire bene Non è una malattia E noi che insegniamo Danni tutti gli assi Di equilibrio Beh immaginate In un soggetto Che ha una Distonia Neurovegetativa Con la pineale No? Che non sta più A governare Il sistema immunitario Beh sappiamo Ci sono grandi studiosi Anche nel nostro mondo Che danno Grossa importanza All'impatto Della melatonina Sull'induzione Antagonista Alle cellule tumorali Che viene indotta Attraverso la simulazione Del TH1 Beh considerate Quando possa essere Importante Di un test del genere Per la prevenzione Perché la micosi Non è nient'altro Che la conseguenza Di un squilibrio In un terreno Noi proprio Nel corso di specializzazione Faremo caripire L'importanza anche Del biotipo Della costituzione La signora Era una sulfurica Stranamente ansiosa Quindi ansiosa E insonne Quindi È una questione Di centralità Che si deve ottenere Attraverso Io ho dato Nella seconda pagina Otto consigli Sullo stile di vita Cioè La mia prima pagina Sono stato Sono stati Quattro integratori Che posso anche Dire il nome Se volete Perché sono Il self food Il synchro level E poi Un prodotto Per la depurazione Visto che si deve Approntare Alla camionterapia E un altro prodotto Per la regolazione Della ghiandola pineale Ad alte dosi Dopodiché Gli ho dato Una serie di indicazioni Sullo stile di vita E gli ho applicato Una nutrizione Sarà seguita Dalla nutrizionista Che chiaramente Te rappresenta Di quel terreno Ma se noi Quella persona La vediamo 15 anni fa 15 anni prima Quella persona Arriva allo stesso 67 anni Una mattina Si sveglia E ha 10 centimetri Di adenocarcinoma Pancreatico Abbiamo usato Un sistema subliminale Come il test S-Drive Come la biofisica Il campo quantistico Per arrivare Sui sistemi Ma nessuno Alla persona In questione Ha parlato Di equilibrio Quindi noi Attraverso La scuola Di alta formazione Attraverso Poi Il master In perfezionamento In tecnologia S-Drive Diamo proprio In maniera approfondita Questi concetti Partendo chiaramente Dalla clinica E quindi io Ora abbiamo fatto tardi Domani mattina Il mio primo test Io sono a Pordenone In provincia di Pordenone A lavorare E alle 8 di domani mattina E quindi io Vi saluterei Dicendo Beh insomma Il regalo Che vi ha fatto Giorgio Stasera Ho sentito i costi Se pensa Quando ho pagato I corsi Ai miei tempi Negli anni 90 Giorgio Meglio che non te lo dico Per poter fare perfezionamento Vogliamo che più persone possibili Si avvicinano Alla prevenzione E alla formazione Dalla pratica clinica E le soluzioni La medicina Del perché Del come Ma soprattutto Della causa Dei problemi E Dobbiamo fare presto Come diceva La professoressa Lucangeli Diceva Dobbiamo fare presto E quindi Grazie Grazie Bart Buonasera Non ti ho voluto Far fare Il report Perché è troppo Tardi No è tardi Quindi Faremo Una